La primavera era arrivata a Santiago, come tutti gli anni, però questa si portava dietro i colori vibranti che imbrattavano i muri con graffiti brutali, slogan di libertà, mobilitazioni sindacali e marce studentesche disperse con i cannoni d'acqua. I ragazzi dell'università resistevano a pietrate agli schizzi fangosi degli sbirri e caricavano senza sosta conquistando la strada con le fiamme rabbiose delle Molotov. Con un'improvvisa esplosione tagliavano la luce e tutti correvano a comprare candele, a raccogliere candele e ancora candele per incendiare le strade e i marciapiedi, per disseminare di braci la memoria, per frantumare l'oblio con le scintille, come se la coda di una cometa si abbassasse fino a sfiorare la Terra in omaggio a tanti desaparecidos.